Ciao ragazzi, ciao ragazze, allora finalmente video, un altro video, video prodotti quindi finiti, acquistati o regalati e recensiti all'ultimo video che ho fatto del genere sono stata virgolette cazziata perché effettivamente sto facendo dei video un pochino troppo lunghi quindi da ora in poi cercherò di, cioè la cosa che mi fa perdere più tempo è chiacchierare dei prodotti ovviamente che ho da recensire quindi da ora in poi cercherò di limitare i prodotti recensiti, cioè appena ne ho un quantitativo minimo accettabile per non far diventare il video troppo lungo farò il video dei prodotti perché mi è capitato effettivamente di avere 10 o più prodotti e quindi parlare per troppo tempo il video mi si allungava. Allora iniziamo con i prodotti finiti come sempre Allora, il primo prodotto finito è questo profumo, questo profumo della Chiara Boni Sunshine, è un Eau de Toilette era di mia madre, lei non lo utilizzava, sia io che lei non siamo molto patite di profumi era rimasto giusto un pochettino, l'ho finito di utilizzare io perché come sapete odio sprecare i prodotti e quindi l'ho finito io, quindi ora sono senza profumo e non me ne importa 2. Questa crema della Bottega Verde all'orchidea, latte per il corpo e l'ho finita questa crema mi piace un sacco, è la seconda che ho e mi piace veramente tantissimo ancora Bottega Verde, crema viso, allora crema effettosite, idratante alle erbe e al miele e anche questo, che profumo è finita, che profumo che è una bellezza poi smalto rinforzante dell'Essence Ultra Strong Nile Repair come tutti gli smalti che hanno una funzione e quindi occorre che siano veramente buoni arrivato alla fine è tutto denso e non si riesce a prendere poi acquisti, ormai il tempo sta migliorando però ho preso questi sono dei guanti in pile molto carini, questo non mi serve, lo posso prendere in mezzo molto carini, sono questo beige e hanno questo pellicciotto finto mi piacciono un sacco, sono caldissimi sicuramente l'ho fregata a mia nonna, l'aveva comprati non, l'aveva trovati sopra questi nonna, ma sono molto carini, sono caldissimi, mi piacciono tanto grazie nonna poi mia zia mi ha regalato questa pochette che è la fine del mondo la tolgo un attimo dalla busta, è molto carina questa la pochette in questione è questa, è bellissima è pagliattata in argento, ha questi due fiori in grigio e argento con degli strass oddio mi sa che vi sto accecando dentro ad apertura così tolgo un attimo le carte, mi è rimasto ancora il cartellino ha una piccola, quante carte? ha una piccola taschina e poi ha la catenella probabilmente che andrò di queste dimensioni così molto eleganti sia la mia prima vera pochette non so quando la metterò però è carina, mi piace un sacco come regalino grazie dietta poi crema viso della Dora Bruschi, no Dora Bruschi si all'aloe vera per pelli normali e grassi, è un'idratante questo già l'avevo utilizzato e mi sono trovata molto bene mamma è passata da Bottega Verde e mi ha dato questo campioncino è una crema per il corpo avvolgente alla vaniglia, è un'edizione limitata, credo che in questo periodo sia in promozione da Bottega Verde poi sono passata all'erbolista sotto casa e ho comprato uno smalto trasparente della Leppo 3 in 1 nutriente per unghie è un nutriente e indurente per unghie più base protettiva per lo smalto e top coat io non lo utilizzerò come top coat perché sinceramente l'ho pagato anche un bel po' quanto l'ho pagata se trovo dove sta? ah eccola qua non trovavo lo scontrino l'ho pagato 7 euro quindi non lo utilizzerò come top coat ma semplicemente come uno smalto protettivo e rinforzante e nutriente per le unghie perché mi era finito e quindi mi serviva e sono andata a comprarlo però vi farò sapere anche come top coat la prima volta lo utilizzerò anche così mi sembra un po' liquidoso è bluastro quindi dovrebbe aiutare a togliere il giallume tra virgolette delle unghie poi ho avuto un paio di campioncini cosa sempre molto gradita allora alcune cose già me le erano date in altre occasioni allora della Biosline Cell Plus con alghe azzurre di Bretagna ad alta definizione crema snellente pancia e fianchi azione cron programmata è una crema anticellulite proviamo con una sola bustina non si può fare niente però almeno sentiamo l'odore e dalla consistenza riesco a capire se ne ho provate aiuse riusciamo a capire anche com'è 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 poi un impacco per capelli all'aloe vera disciplinante poi un impacco per capelli volumizzante sempre all'aloe vera di questo dopo faccio l'attenzione perché già avevo avuto dei campioncini poi per pelli miste e secche gel crema no miste normale scusate idratante e reequilibrante dei colori delle lan sempre dei colori delle lan per pelli grassi e impure crema gel all'argilla bianca quindi l'argilla bianca serve anche per depurare oh non ci avevo fatto caso mi hanno dato le tre diverse modalità di pelle quindi la prima questo per pelli miste normale la seconda per pelli secche e disidratate che io già avevo perché già mi hanno dato dei campioncini e mi sono trovata bene a utilizzare di notte e questa tre per le pelli grasse e impure e poi mi hanno dato un campioncino di un tè verde io adoro il tè verde non vedo l'ora dopo il video mi vado a fare una bella tazza di tè verde ok recensioni recensiamo allora crema per le mani protettiva emolliente dermopurificante al melitto di fimo olio essenziale di limone sempre delle lanna e la linea dolcezza allora questa crema ha un profumo di limone ma è è di una morbidezza esasperante lascia le mani morbide idratate per ore 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 allora leggo qualcosa qua dietro allora è protettiva quindi ha un effetto barriera grazie alla cera d'api al burro di carité quindi è molto idratante emolliente per le proprietà del melillo di timo e purificante per demopurificante per grazie al limone è piaciuta un sacco costicchia un po' perché sono andata a vedere al negozio e se non erro sta sopra i 15-16 euro però è buonissima matita matita occhi della essence long lasting eye pencil la numero 11 go wild è questa matita fucsia rosa no ha rotto la punta mi si è spoccata la punta ecco un lato negativo di questa matita è che ha la punta lamina che è di quelle retraibili troppo 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 morbida non so quante volte l'ho spaccata comunque il colore in sé è davvero carino perché ha un effetto metallizzato non so se riesco a far vedere comunque ha un effetto metallizzato molto carino la linea sull'occhio esce molto precisa non si riesce bene a fare la virgoletta perché ora si è anche spaccata la punta è molto grossa quindi si ha difficoltà però con un pendellino si riesce ad attirare anche con il cotonfioc senza avere 10.000 strumenti mi dispiace e ho scassato dalla punta durata eccellente dura sull'occhio non si stampa mi piace molto ne ho due di questa linea questa e l'altra che colore è? è tanto rimembro non mi ricordo vabbè comunque questa qua mi piace tanto non so anche se ok questa mattina ha deciso di voler morire non lo so comunque ah è ottima anche come base colorata l'ho provata e mi ha fatto risaltare un ombretto rosa non era spento era molto opaco però molto chiaro e con questa sotto si è trasformato è diventato molto più fucsia molto carino però l'hombretto non ha perso l'opacità anche se sotto la matita è molto metallizzata mi è piaciuta poi della B-Up la light pencil numero 14 è una matita grazie questa è la matita è un bellissimo viola scuro freddo senza nessun tipo di glitterini è opaca questa matita mi è piaciuta abbastanza sia come tratto che lascia sulla linea delle ciglia quindi come matita colorata e liner colorato è resistente non si stampa anche per ore la tenete su non sbava non da problemi invece usata sotto scrive all'interno mi piace il tratto che lascia perché essendo questo colore freddo quindi non tendendo al rosso non sembrate fresche di pianto l'unica pecca è che dopo poco probabilmente a contatto con il mio occhio che è molto probabilmente caldo e liquidoso di suo mi si è sciolto abbastanza rapidamente qua però è carina si sfuma abbastanza bene l'ho utilizzata anche ovviamente come base colorata e mi è piaciuta abbastanza sotto l'ho detto non regge tantissimo forse sarà anche il mio occhio perché a me sotto non regge niente neanche le matite come si chiamano quelle resistenti all'acqua eccola qua ora vi parlo della maschera che ho avuto in campioncino allora questa maschera ne avevo due di questi sample è una volumizzante la prima volta l'ho utilizzata come semplice maschera quindi dopo lo shampoo prima di del risciacquo l'ho messa sui capelli ho tenuto a 5 minuti e ho sciacquato e ho sciogato i capelli normalmente quindi io la parte dietro li fono a capa di chioppo se non li faccio ricci con il diffusore e la schiuma però ho tirato ovviamente con la spazzola la sciocca che ho avanti perché non piacciono come effetto da un volume esagerato anche soltanto come maschera quindi come una specie di balsamo poi l'ho provato come impacco cioè l'ho tenuta su per ho fatto lo shampoo poi ho messo l'impacco su tutte le lunghezze cioè dalla ridice fino alle punte e l'ho tenuta su una ventina di minuti l'ho avvolto dentro quelle cuffie che si trovano negli alberghi di plastica l'ho tenuta su una ventina di minuti tipo una decina così normali e poi gli altri dieci con il getto caldo del fono così le sostanze dell'impacco entrano all'interno del capello vi giuro che dopo sembravo una capigliatura di queste dimensioni le ha lasciate molto lisce e molto nutriti sia come maschera che come impacco ma aveva questo volume esagerato sia in un caso che nell'altro bellissimo io non ho molto volume nei capelli sono molto appiccicati in testa ma quella volta queste due volte che l'ho utilizzato e ora lo riutilizzerò mi ha lasciato questi capelli molto molto voluminosi che a me piacciono un sacco perché poi non avendoli quando vedi la qualità ti piace ancora di più poi delle lanno uno shampoo allora capello verde della bellezza per capelli shampoo crema rivitalizzante 5 minerali con proteine di frumento e lievito programma prevenzione anticaduta capelli fragili soggetti e diradamento e caduta va bene io non ho questo problema però ce l'avevo l'ho utilizzato allora vediamo se dice qualcosa di interessante niente di che ho trovato non mi so dire se aiuta veramente a a trattare i capelli che cadono ma la cosa che ho notato è che non lava bene i capelli io faccio ora che non faccio più pallavolo faccio lo shampoo un paio di volte a settimana quando facevo pallavolo mi capitava di farlo anche 4 volte a settimana lo shampoo anzi no 3 4 forse ci sono arrivato pochissime volte e quindi ora lo faccio un paio di volte a settimana e i miei capelli ovviamente il primo giorno sono ok il secondo sono ok il terzo la sera forse avrei bisogno di uno shampoo poi lo faccio il giorno dopo con questo due giorni dopo io avevo bisogno di farmi lo shampoo quindi non pulisce bene il cuoio capelluto nella radice nella punta le sentivo grassi a poca distanza dallo shampoo quindi su questo non mi è piaciuto come shampoo non mi è piaciuto non so se funziona per prevenzione anticaduta questo non ve lo so dire solo a provetta non si può capire poi eau de toilette alla vaniglia nera della bottega verde avevo un sample io ora non conosco bene la differenza tra eau de toilette eau de parfum acqua profumata eccetera però più o meno l'eau de parfum è più resistente rimane sulla pelle per parecchio tempo eau de toilette un po' di meno l'acqua profumata ancora di meno questa diciamo che dovrebbe essere una via di mezzo io ho provato questo campioncino la mattina il pomeriggio ancora ce l'avevo la sera ancora lo sentivo la notte mi stava disgustando il giorno dopo mi sono dovuta fare la doccia e grattarmi le parti dove l'avevo messo che non lo sopportavo più perché a me l'odore è buono però per tenerlo quasi 24 ore addosso a me da fastidio un po' allo stomaco però non sono abituata ai profumi quindi mi dava un attimo fastidio quindi non ve lo consiglio perché secondo me non so cosa ci sia dentro non so leggere gli ingredienti a parte qualcosa però si incolla alla pelle è terrificante ok credo di essere stata abbastanza brava lo spero vediamo un po' ah si dai chiudo perché se no diventa comunque lungo ci sentiamo nel prossimo video vi mando un bacione in gamba lo sto dimenticando e ciao ciao ciao